Siracusa si introducono in villette, rubano utensili e attrezzature per giardinaggio, arrestati. Erano impegnati in alcuni servizi di controllo straordinario, volti a reprimere e prevenire furti nelle villa, nelle abitazioni delle zone balneari della città. In questo ambito i carabinieri della sezione di radio mobile di Siracusa hanno arrestato in fraganza due soggetti di 29-26 anni, già noti e sorpresi all'interno di un'abitazione estiva di ogni una. I due giovani si sono introdotti all'interno della villetta non abitata in questo periodo dell'anno per asportare utensili da lavoro e attrezzature per il giardinaggio. Le operazioni sono state notate dai carabinieri che hanno bloccato e identificato i due uomini e rintracciato il proprietario dell'immobile al quale la rifurtiva è stata restituita, mentre i due autori del furto sono stati sottoposti ai domicinari come disposti dall'autorità giudiziaria di Siracusa.